Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in a 11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e il Bivio Colla 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In FIPI lì restano rallentamenti per viabilità esterna che il nord riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci e anche in questo caso ci troviamo nella carreggiata verso Firenze. Siamo al traffico ferroviario, sono in corso gli interventi di RFI per il raddoppio tra Pistoia e Monte Cateni Termo e sulla linea Firenze-Pistoia-Via Reggio. Per questi cantieri la circolazione dei treni è sospesa tra Pistoia e Pescia fino al 29 agosto. Tra le due località è attivo un servizio sostitutivo con bus via autostrada A11. Buona versina Toscana Info, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto un viaggio. Per ora è tutto un viaggio.